Buona domenica 14 giugno 2020, il cielo non aiuta più che metà giugno, sembra a metà ottobre, però sono gli scherzi climatici di questo 2020 molto molto particolare. Vediamo cosa è successo il 14 giugno. Nel 1775 viene fondato l'esercito degli Stati Uniti. Nel 1776 la Stars and Tribes Stelle Strisce viene adottata dal congresso degli Stati Uniti quale bandiera ufficiale, che è un simbolo in ambito sia negativo che positivo di quella che è la forza economica e militare degli Stati Uniti. Nel 1800, la battaglia di Marengo, Napoleone sconfigge il comandante austriaco Mellas Marengo, località in Piemonte, in provincia di Alessandria, quindi si certifica e si attesta ancora di più la forza dell'esercito uscito dalla rivoluzione francese e Napoleone si attesta come re d'Italia. Sette anni dopo, sempre oggi, il 14 giugno, Napoleone sconfigge a Friedland l'esercito russo. Andiamo a vedere quello che succede. Nel 1900 le Hawaii divengono territorio statunitense. Nel 1940 i tedeschi entrano trionfalmente a Parigi. La parata della Wehrmacht alle Champs-Élysées si apre il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 1949 viene fondato lo stato del Vietnam. Nel 1971 viene aperto il primo art rock caffè e questo accade a Londra. 1982, fine della guerra del Falkland, l'Inghilterra che ha fatto un viaggio praticamente da circunnavigato tutto il globo per andare a recuperare quello scoglio di cui gli argentini si erano impossessati per loro la guerra delle Malvinas. Fortunatamente quella guerra pose fine alla dettatura militare argentina con la vittoria inglese. Nel 1985 a Lussemburgo vengono firmati gli accordi di Schengen per la libera circolazione dei cittadini. vediamo i nati in questo 14 giugno. Cominciamo del 1416 nasce Piero il Gottoso, figlio di Cosimo e padre anche di Lorenzo il Magnifico. Nel 1519 Isabella d'Este, figlia di Alfonso I d'Este e di Lucrezia Borgia, nipote di quell'Alessandro VI Borgia o Borja alla Spagnola che era il Papa. Nel 1864 Alois Alzheimer fu il primo a descrivere il caso di demenza senile che ha preso da lui il suo nome. Nel 1910 nasce Carlo Teresoli e Ceresoli portiere del Bologna della Juventus, campione del mondo del 1938. Uno degli eroi di Haiburi. L'Italia va a cimentarsi proprio a Haiburi, il vecchio campo dell'Arsenal contro l'Inghilterra. 3 a 0 gioca in 10 contro 11. Ceresoli pare anche un rigore battuto benissimo da Huck, definito una delle più belle parate del secolo. L'Italia limite danni 3 a 2 in 10 e vengono definiti gli eroi di Haiburi. Nel 1921 nasce a Firenze il sindaco di Firenze dal 67 al 74 Luciano Bausi. Nel 1925 nasce Pierre Salinger portavoce della Casabianca durante la presidenza Kennedy e Johnson, lui che è stato anche un romanziere e grande giornalista. Nel 1940 nasce un poeta, uno scrittore candidato contro il lume scuro, il suo ultimo libro al premio strega Francesco Guccini. Nel 1946 una personalità completamente diversa e distante anni luce da Guccini, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Nel 1954 Gianna Nannini, la cantante Gianna Nannini e l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. Nel 1957 la giornalista Giovanna Botteri, per anni inviata della Rai negli Stati Uniti e adesso nella Cina, sapete le polemiche per l'imitazione di Michelle Unziker e lei signorilmente ha risposto per il suo look un po' monotono per quanto riguarda i vestiti e quindi la amabile parodia che ne ha fatto la Michelle Unziker. Nel 1961 il conduttore Paolo Bonolis e il cantante Boy George. Nel 1972 una delle voci di Sky anche per quanto riguarda il rugby, Lia Capizzi. Nel 1973 nasce Giacomino Banchelli, soprannominato Pomodoro, avvinci lui anche se anche se lui è di Montelupo. In Fiorentina due stagioni, 1989-92 e il 93-94, 26 presenze, 5 gol. Nel 1974 Vittorio Tosto, il terzino sinistro calabrese, nella Fiorentina 91-93, 7 presente, 0 gol. Nel 1976 figlio d'arte Massimo Oddo, che diventa anche campione del mondo nel 2006. Nel 1980 il giornalista d'inchiesta Vittorio Brumotti che con la sua bicicletta è andato a scoperchiare delle situazioni difficili parlando anche di spaccio di droga e altre situazioni oltre la legalità rischiando in prima persona e a tutta la nostra solidarietà. Nel 1985, forse qualcuno di voi lo ricorderà, Marvin Compe, il centrale della Fiorentina 2013-2014, 16 presenze, 1 gol, con il Siena in Coppa Italia. E di Coppa Italia parliamo ricordando la partita di erisera al San Paolo, il pareggio 1-1 tra Napoli ed Inter in vantaggio con il gol al secondo minuto di Eriksen. Il pareggio di Mertens al 41esimo, sempre del primo tempo, su assi di Insigne, la cavalcata di Insigne innescato dal portiere Ospina che dopo la prima papera sul gol da calcio d'angolo di Eriksen è riuscito a riscattarsi con delle bellissime parate e questo lancio millimetrico per Insigne ha trovato la difesa dell'Inter completamente sguarnita. Prendere un gol in contropiede su azione di calcio d'angolo quando si è in vantaggio per 1-0 è veramente abbastanza con quello che succede oggi abbastanza ridicolo perché si sta attenti a tutti i particolari, si parla di ripartenze, si parla di, come si diceva una volta, ognuno da controllare il proprio avversario e invece l'incontropiede. Il Napoli pareggia, non vale il forcing finale dell'Inter. La finale di mercoledì 17 alle ore 21 a Roma sarà proprio tra Napoli e Juventus, quel Napoli che sconfissa nel 2013-2014 per 3-1 in finale della Fiorentina in una finale, diciamo che fu, non voglio dire decisa da elementi esterni, ma sicuramente ciò che successe fuori dall'Olimpico con l'uccisione anche di un tifoso napoletano, incidenti, scontri, noi che eravamo a Roma entrammo alle 9 e sembrava di essere a Beirut con scoppi, mortaretti e insomma il comportamento del pubblico, ci dispiace dirlo, di parte partenopea, non proprio bellissimo. Andiamo a vedere le cose di Casa Viola, pagina 23, l'intervista a Marco Benassi di Luca Calamai, meno di due anni fa è entrato nella prima lista azzurra di Mancini, premio meritato per Benassi, però nell'ultimo campionato invece è finito in uno strano con Odombra. Cosa è successo? Niente di particolare, risponde il centrocampista modenese, ho sempre lavorato al massimo per farmi trovare pronto, sia per la Fiorentina che per la Nazionale, quest'anno è stato particolare, proverò in futuro a mettere in difficoltà il CT nelle sue scelte, la maglia azzurra è il sogno di qualsiasi giocatore, lui che aveva avuto anche dei problemi nella gestione Montella. Cosa le piace di Castrovilli? È un predestinato, ha qualità importantissime e gioca già come se fosse un veterano. Lo vedo molto bene a Firenze perché è al centro di un progetto importante. Quali obiettivi può avere la Fiorentina in questa quota di campionato? Prima dello stop avevamo trovato una certa continuità di prestazioni e risultati. Spero che potremo ripartire da lì e cercare di fare più punti possibili per risalire la classifica. Ricordiamo che la Fiorentina è a 5 punti dalla zona salvezza quindi è fondamentale tirarsi fuori il prima possibile. Crede che potrebbe essere arrivato il momento di cercare nuove sfide? A Firenze sto d'incanto. Amo questa città e questa squadra. Anche la mia famiglia qui sta davvero molto bene. Mi piacerebbe molto poter proseguire qui il mio percorso. Le cose però si fanno sempre in due. Al momento opportuno ci troveremo e cercheremo di capire qual è la situazione. Iachini deve conquistarsi la conferma. Queste sono scelte della società dice giustamente Benassi. Io posso dire che è un grandissimo lavoratore che cura tutti i dettagli sia in allenamento che in partita e ci tiene sempre sulla corda spronandoci a dare il massimo. Ha parlato di Vlavic e Sottil come di due ragazzi in rampa di lancio. Hanno tutto per spondare. Dusan è molto giovane ma si vede che ha qualità tecniche ed un senso del gol fuori dal comune. Ha forza fisica ma anche grandi doti balistiche. Acquistando esperienza può diventare un top. Sottil ha trovato meno spazio ma perché davanti a gente con esperienza è forte. Può solo crescere. Il futuro è dalla sua parte. Quanto manca la Fiorentina come squadra per diventare squadra d'Europa? Benassi risponde poco. Dobbiamo trovare più continuità ed esperienza. Visto il mercato di gennaio, l'anno prossimo potremo competere realmente. Il presidente commisso ha riportato entusiasmo. Ha messo le basi per il centro sportivo che sarà un grande valore aggiunto. Sta facendo di tutto per costruire un nuovo stadio. Gli acquisti invernali sono stati molto importanti. Qual è stato il gol più importante dal centrocampista? Quello in Bologna-Fiorentina. Ricordiamo un bellissimo gol proprio sotto la curva che ospitava i tifosi viola, quella che era la curva. San Luca veniva da cinque mesi difficili ed era la prima partita con Iachini. Il gol che vorrei segnare invece è uno contro Juventus perché in Serie A ancora non ci sono riusciti. Poi parla di Berardi. Resterà ancora a Sassuolo? Il nostro sogno è di giocare insieme e sono due anni che facciamo di tutto per riuscirci. Prima o poi ce la faremo. Cosa ha portato Frank Ribéry nella Fiorentina? È un fenomeno. Questo è il refrain di tutti i giocatori. Viola, Ribéry ha portato questa marcia in più, questa consapevolezza, il fatto di mettersi a disposizione, il fatto di essere il primo sempre a arrivare agli allenamenti. Ha portato classe, tecnica, esperienza, carisma. Ci ha dato tantissimo in campo e nello spogliatoio. La sua assenza ha pesato moltissimo. Il suo ritorno farà la differenza. E Diambraval cosa ne pensa? È un calciatore davvero molto forte, un centrocampista moderno. La società ha fatto un gran colpo. Il centrocampo sarà di livello assoluto ed è quello che ci auguriamo tutti. Andiamo al calcio giocato. Il primo che ha riniziato a giocare è stato proprio il campionato tedesco. Andiamo a vedere i risultati. Venerdì si era giocato Hoffenheim-Lipsia 2-0 per la squadra del Red Bull. Ieri Fossburg-Friburgo 2-2, Fortuna-Düsseldorf-Borussia Mönchengladbach 0-1, Erta-Berlino-Antrecht-Francoforte 1-4, Colonia-Union-Berlino 1-2, Padermor-Werder-Brema 1-5, Bayer-Borussia 2-1. Quindi il fattore campo è valso soltanto per il Bayer di Monaco. Le altre, a parte il pareggio tra Fossburg-Friburgo, tutte vittorie fuori casa. Oggi Mainz, Augsburg e Schalke 04. Leverkusen, vediamo la classifica. Il Bayer 73 punti, Borussia Dortmund 66. Quindi il trentesimo Schalle, il piatto che sarebbe lo scudetto tedesco, è veramente alle porte della squadra bavarese. Lipsia 62, Borussia Mönchengladbach e Leverkusen 56. Saranno queste due squadre a giocarsi, il terzo posto, il quarto posto per la Champions League. Fossburg 46, Hoffenheim 43, Friburgo 42, Eintracht, Erta e Schalke 38, Colonia 1-1, Berlino 35, Augsburg 32, Mainz 31. Sarebbero retrocesse in zweite lighe Werder-Brema con 28 e Padermor-Corventi. Fortuna, Düsseldorf ha 28 punti come il Verde. Giocherebbe lo spareggio con le squadre che la squadra meglio qualificata al terzo posto per quanto riguarda la zweite lighe. Vediamo quello che è successo nella riga. Giovedì si è svolto il derby di Siviglia, vinto dal Siviglia per 2-0 sul Betis. Venerdì il Granada ha battuto il Getafe 2-1, il Valencia ha pareggiato in casa contro il Levante per 1-1, ieri Espagnol Alaves 2-0, Villareal Corsaro a Vigo, Celta Vigo 0-1 e il Valladolid che batte Leganessa a domicilio 2-1 e il Barcellona che spugna il campo del Mallorca per 4-0. Oggi alle 14, Atleti Bilbao, Atletico Madrid, Real Madrid e Ibar e Real Sociedad Osasugna. Il Barcellona che vince 4-0 a Mallorca con il gol di Vidal dopo due minuti, Brad White al 37esimo e poi il gol di Jordi Alba e Messi in chiusura di partita. Il Barcellona comanda con 61 punti, segue il Real Madrid a 56, una partita da recuperare. Siviglia 50, Rial Sociedad e Getafe a 46, Atletico Madrid 45, Valencia 43, Villareal e Granada 41, Atletico Bilbao 37, Osasugna e Levante 34, Betis e Valladolid 33, Alaves 32, Ibar 27, Celta 26, Mallorca 25, Leganes e Espagnol 23 punti. Andiamo a vedere delle particolarità. La Premier League contro il razzismo, che la Premier si oppone al razzismo annunciando per le prime giornate di campionato dal 17 giugno. Sulle maglie dei giocatori non ci saranno i nomi dei giocatori, ma la scritta Black Lives Matter, praticamente i negri hanno gli stessi diritti, quindi ci si schiera giustamente contro il razzismo. Si parla a pagina 26-27 della Serie B, ribarte una Serie P da 10 e Lode, Benevento con un piede Gena, Crotone e Frosinone, che sfida si comincerà il 19 di giugno, venerdì, anzi il recupero il 17 di giugno alle 18.30, Ascoli, Cremonese e poi il 19 Spezia e Impoli. Completano il quadro Cosenza, Antella, Crotone, Chievo, Livorno, Cittatella, Pescara, Juvestabia, Salernitana, Pisa, Trapani, Frosinone e poi Pordenone-Venezia. Il 21 è il 18, poi Cremonese, Benevento, e Ascoli, Perugia, che è un mezzo derby. La UEFA, si legge in un articolo di Paolo Condò, il ritorno del pubblico negli stadi, si spera il prima possibile, si parla addirittura di un tunnel di sanificazione per quanto riguarda la Premier League, perché indubbiamente le partite senza pubblico, come giustamente dice Luiz Enrique, ballare un lento con la propria sorella o una minestra senza sale. Andiamo a vedere gli altri sport, a pagina 3031, un'intervista con la campionessa del mondo, vincitrice della Coppa del Mondo, Francesca, scusatemi, Federica Brignone. La Coppa è un sogno, per lei ho pianto di gioia, ora scio sui ghiacci per vincere ancora. L'Azzurra si sta allenando allo stelvio d'estate, preferisco il mare, però il mio sport mi mancava, siamo fermi da tanto tempo, dice la 29enne. Andiamo a vedere il calendario, si comincerebbe nel 2020 il 18 con la Super G e il 19, la discesa in Val Gardena, il 20 e il 21 di dicembre ci si esporta per il Gigante, il Gigante è parallelo in Alta Badia, a Madonna di Campiglio il 22 e lo Slalom, Bormio il 28 di dicembre la discesa e il 29 il Gigante e le donne al Plan di Corones il 26 di gennaio del 21, il Gigante. Dunque si sta riprendendo anche con lo scicco gli allenamenti, giustamente per la prossima stagione. Bella notizia che farà piacere all'amico Filippo Bagnini, pesano in Serie A, lo sponsor rinnova, sette giorni fa eravamo in A2, Beretta ancora con le WL, il consorzio è rafforzato per la panchina, si parla di Buscaglia in pole position, dunque Maurizio Buscaglia che andrebbe sulla panchina di Pesaro, questa grande, che è stata una grandissima del campionato italiano di Basca, ricordiamo il suo scudetto, mentre le altre società la cui iscrizione è in Serie A e ancora in bilico sono Pistoia, Cremona e Roma. Massimo Capecchi, presidente di Pistoia, ha più volte detto, se come sembra non ci saranno novità dell'ultima ora, il budget a disposizione non sarà sufficiente per la Serie A. La decisione è attesa domani, scadenza del termine per il riposizionamento, cioè la richiesta di iscriversi alla A2. Cremona e Roma non pensano alla A2, per l'iscrizione in Serie A il termine scade il 30 di luglio. Si è ricominciato a giocare, per quanto riguarda si è giocato a Nizza, Djokovic ha battuto Troiski 4-1-4-1, Sverve Krajinovic 0-4-43-43, Dimitrov Lavic 4-3-3-4-4-1, Tim ha sconfitto il Bosniaco Zumur 2-0 per il ritiro, mentre la pioggia ha fermato Berrettini. Quindi piano piano stiamo ricominciando anche i tornei di tennis. In Finlandia la prima gara nel meeting basta da 50 metri, che naturalmente ha visto all'opera i big finlandesi, mentre nella pallavolo cambia protocollo allenamento senza i guanti. La Federazione Italiana Pallavolo, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno, ha aggiornato il protocollo di ripresa degli allenamenti. Sarà possibile utilizzare la doccia per più atleti contemporaneamente, con il rispetto della distanza di sicurezza di un metro e mezzo. L'utilizzo dei guanti resta obbligatorio solo per la sala pesi, mentre in campo si potrà giocare senza, anche se atleti e tecnici dovranno disinfettare le mani con maggiore frequenza. Chiudiamo con il rugby, la Nuova Zelanda riparte 22.000 tifosi sugli spalti. Per la ripresa del rugby in Nuova Zelanda si sono schierati anche la Premier Jacinta Herden e il suo braccio destro, il Ministro delle Finanze Grant Robertson. A Dunedin si è giocata la prima partita di uno sport pro con pubblico e senza restrizioni. Il coronavirus infatti in Nuova Zelanda è stato sconfitto in tempi record. Gli Allanders hanno vinto 28 a 27, una bellissima partita, per un drop nel finale di Brian Gatland in risposta a quello di Damian McKenzie che aveva alluso gli ospiti. Al Forsyth Bar Stadium di Dunedin gli spettatori erano 22.000 in un clima del tutto naturale, nessuna restrizione fuori e dentro, a braccia e strette di mano nei trasporti pubblici, senza distanziamento sociale o mascherina. Oggi l'altro match, Blues Hurricanes in un Eden Park esaurito, 43.000 posti. Ricordiamo che nei Blues è tornato a giocare dopo l'esperienza in Francia e l'apertura Dan Carter. Dunque con questa notizia noi vi diamo la buona domenica, l'appuntamento con Firenze Viola Supersport è per domani mattina dalle 10 a mezzogiorno. Ci sarà naturalmente Michela Lanz, anzi è lei che comanda il lunedì mattina e il consueto contatto per le ultime novità con il direttore di Firenze Viola Supersport Stefano Ballerini. Vi rinnovo la buona domenica, buona giornata a tutti. Paolo Caselli, Firenze Viola Supersport.